Due terreni sono stati confiscati all'ex consigliere d'assessore regionale della Carabria, Domenico Crea, 64 anni, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Carabria, che hanno notificato un decreto di confisca emesso dalla Tribunale, sezione misure di prevenzione della città calabrese dello stretto. Il provvedimento riguarda due terreni del valore stimato di 600 mila euro. Crea è stato condannato nell'ambito dell'operazione onorata a sanità condotta dai carabinieri nel gennaio 2008.